amici di milan.soccer eccoci con un nuovo appuntamento dedicato all'informazione rossonera grazie a tutti a tutti quelli che hanno aiutato il canale ieri siete stati in tanti ad iscrivervi a mettere mi piace e soprattutto a commentare ho visto tanti bei commenti di persone intelligenti qualcuno meno diciamo così apprezzabile purtroppo come e da regolamento di questo canale salutiamo e mettiamo la freccia detto questo oggi è giorno di gaudio di festa perché dobbiamo creare un po di ottimismo attorno a questo progetto milan che in questo momento conosce una fase di stallo una fase di mini crisi ma dalla crisi noi tifosi ne dobbiamo uscire cercando in tutti i modi di aiutare e di sostenere poi arriverà il momento della critica già c'è stato per il derby per il pari san germain e per la juventus ma adesso dobbiamo pensare al napoli leggo delle cose tanto per essere gaudenti prima però vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale qui lo state facendo come dicevo numerosi di mettere mi piace con il pollicione al video e in basso di acquistare se volete il libro romanzo milan solo per veri milanisti vi mandiamo l'attestato di veri cuori rossoneri un po più in basso dicevo dobbiamo affrontare con il sorriso e quindi un po di sana e gaudente lettura di quelli che sono anche le notizie dell'altra squadra che incontreremo cioè il napoli e mi fa piacere sentire da uno che ho sempre stimato zola napoli milan è assolutamente un duello per lo scudetto e poi tra le righe c'è anche una dichiarazione di dino dino il portierone nazionale dino zoff che dice beh io tra megnan e meret devo dire che meret è sicuramente più tecnico quindi sostanzialmente più forte del giocatore del milan eccolo la direttrice direttore che dir si voglia ecco avete letto quante stu 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 non si dicono parolacce in questo canale allora arriviamo un po all'idea della formazione dobbiamo fare un con diciamo così un confronto rispetto alle ultime notizie dal dal dall'infermeria a ragione lucca serafini quando dice in quattro anni troppo infortunati siamo in testa alla classifica degli infortunati è vero qualche problema c'è ma arriviamo alla questione relativa agli infortunati appunto del momento news del 27 ottobre ocaforri entra in gruppo loftus cic e jovic in dubbio e poi e poi puntini 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 significa che bisognerà aspettare ancora qualche tempo qualche ora qualche istante per capire se effettivamente questi giocatori potranno essere a disposizione sappiamo che pioli insomma non andrà mai a rischiare mai a rischiare quindi credo che recupereremo solo ocafor la formazione le probabili formazioni di napoli milan partita della decima giornata di serie a ricordiamo c'è un testa a testa tra due allenatori che in caso di sconfitta in caso di sconfitta allora vediamo 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 me la sono segnata la formazione il milan dovrebbe scendere in campo con un 343 menian tra i pali rientra il capitano calabria a cui do ancora il mio sostegno per aver spronato un minimo l'ambiente e invece in questo caso però possiamo dirlo come l'abbiamo detto in un video che poi magari metto alla fine di questo il l'allenatore ha pensato di legittimarlo grave errore grave erro molto grave e poi ancora calulù tomori teo hernandez musa crunic reinders pulisic giruleao non c'è niente da fare lui è innamorato è un amore un amore incondizionato lui vuole un solo soggetto che manovri la palla continua con reinders non capisce che reinders è stanco ha fatto tutte le partite come andavano fatte poi però le ultime due le ha le ha cannate le ha sbagliate perché perché oggettivamente tutti possono dire di essere stanchi considerate che musa crunic sono gli elementi che dovrebbero fare da diga io vorrei dedicare insieme a voi vorrei dedicare un video a musa musa io ancora lo devo inquadrare a volte mi sembra un mezzo che sì non che sì un mezzo che sì a volte io non riesco cioè a volte mi estraneo dalla partita perché riesco per la tensione solo a vedere se quelli rossoneri sono più forti degli altri invidio tanti quelli che fanno le telecrona che secondo me non sono così coinvolti emotivamente per cui io per la paura che non scusate che non si arrivi al gol mi perdo però ascolto e tante volte mi è capitato ditemi a voi se vi è capitato mai di pensare ma quel giocatore l'ha tolto perché non lo sento e poi dopo un po il cronista dice musa l'altro giorno era così per crunic nel secondo tempo col pari saint germain per cui non lo so a dire la verità fatemi sapere un po cosa ne pensate di musa perché adesso iniziamo a fare un po i commenti sui singoli giocatori di crunic abbiamo detto stradetto ridetto tutti insomma la pensiamo alla stessa maniera non che sia un giocatore mediocre ma innanzitutto troppo presente per il suo spessore tecnico su questo non c'è dubbio pulisic invece ha un piccolo diciamo così non un problema nessun problema fisico almeno facendo corna bicorna no la questione di pulisic e che va un po corrente alternata non lo so il motivo mi piacerebbe capire una volta facendo riposare le ao perché se deve giocare così è meglio che riposi come 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 si muove il milan facendolo giocare nella sua posizione più naturale che è quella della parte sinistra e poi ancora l'attacco di cui abbiamo detto e ridetto girù è l'unico in questo momento presente probabilmente probabilmente ripeto ci sarà ci sarà ocaforo l'altro giorno è torrighi ho detto o righi che si ricorda righi alzi la mano mamma mia un incubo avuto quella volta mi scuso per gli errori che si fanno durante questi video ma quando il direttore è lì vicino e ti guarda così tu capisci che c'è un po d'ansia perché allora il napoli schiera 433 come re di lorenzo racmani natan rui natan rui ca giuste lo bocca zielischi politano raspadori caravaschelia c'è il c'è il der di caravaschelia leao allenatore rudy gassia va bene io mi imbroglio con i nomi stranieri vi chiedo anche scusa di questo un giorno vi rivedremo il nostro grande milan vi voglio chiedere una cosa invece scrivetemelo sotto la prima volta che siete stati a san siro io beh la prima 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 non me la ricordo perché ero troppo piccolo mia mamma abitava a milano e la prima prima quattro giorni prima di nascere mia madre era in curva sud quattro giorni prima di nascere mia madre era in curva sud poi ero piccolo 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 poi mi ricordo invece un un derby un derby due a due ma quello ve lo ricorderò un'altra volta per un episodio ma mi ricordo a memoria questa formazione terraneo baresi galli tassotti di bartolomei evani verza week insate le battistini virdis bye bye